Allora oggi parleremo di sterilizzazione, però prima di iniziare Giorgio sono arrivate delle lettere dei nostri telespettatori. Le possiamo leggere adesso? Direi di sì, così. Allora, qui abbiamo una lettera della signora Cettina, che ha un problema con un gatto di sei anni circa, si chiama Principe, e lei non lo ha mai fatto sterilizzare perché ha paura dello shock di un intervento. Però in realtà, per circa 3-4 mesi l'anno, ovviamente, impazzisce perché il gatto va in calore e fa pipì ovunque. Adesso lei è abbastanza disperata, non sa come risolvere il problema, soprattutto per questo problema dell'odore della pipì di gatto. Immagino. E non sa che cosa fare se sterilizzarlo ormai, se è troppo tardi, è ancora in tempo. Quindi ha sei anni questo gatto? Ha sei anni e mezzo, Principe. Sei anni e mezzo, Principe. E lei cerca un tuo parere. Il parere che più o meno mai, come più calzante di adesso, il proverbio è meglio tardi che mai. Allora, signora Cettina, purtroppo lei ha fatto una cosa molto bella, quindi ha sopportato in un certo senso questo gatto che comunque per... Ah, perdonami, perché oltretutto il gatto non è stato mai fatto... Mai a copiare. Esatto, a copiare. Difficilissimo, infatti, farà... Infatti, diciamo una cosa, allora, la signora Cettina è un'eroina, perché comunque per sei anni e mezzo sopportare un gatto che comunque per tre, quattro mesi l'anno decide che andando in calore deve in qualche maniera marcare in maniera odorosa tutta quanta la casa, è veramente un'azione che non so quanti possano sopportare. Però purtroppo assistiamo spesso e volentieri, adesso questa è la letta di una nostra ascoltatrice, però spesso ci sono dei gatti in casa e la gente per sette, otto, nove anni, dieci anni, ma forse per tutta la vita del gatto sopporta. Allora, la sopportazione, poi sappiamo che ognuno di noi abbiamo un grado di tolleranza, quindi c'è chi non lo sopporterebbe nemmeno per due giorni, chi invece resiste per sei anni. Però quello che noi vorremmo dire, si parla adesso di un gatto maschio, che la sterilizzazione è importantissima, perché fondamentalmente il gatto in quei momenti comunque ha delle esigenze, delle esigenze che naturalmente non riesce, diciamo, in qualche maniera a espletare. Per cui fondamentalmente la voglia di, come si dice, di antropomorfizzare che abbiamo noi nei confronti dei nostri animali, quindi cani o gatti che siano, a volte è un grosso errore, perché spesso e volentieri vengono da noi e dicono, ma scusi, ma lei le farebbe piacere se facessero una cosa del genere? Certo che a noi non farebbe piacere, però diciamo la sessualità che noi viviamo, la viviamo anche in un'altra maniera, che è fatta poi di sentimenti, che è fatta comunque di un innamoramento. Per gli animali, in questo caso specifico per il gatto, la sessualità in realtà è una spinta biologica che madre natura gli ha dato per una conservazione della specie, per cui loro in quei mesi l'anno che hanno queste esigenze, è come se uno di noi desiderasse, Fiorenza, qualche cosa in maniera esagerata e non potesse averla. Per cui c'è naturalmente anche proprio, diciamo, uno stress, uno stress proprio psico e fisico. Quindi a quel punto noi ci ritroviamo in qualche maniera a sopportare naturalmente per svariati anni a questo punto situazioni veramente di panico. Abbiamo una casa che in qualche maniera diventa anche, non so, difficile ricevere, difficile avere qualcosa di pulito, perché l'odore dell'urina di gatto, in qualche maniera, se c'è presenza poi di ormoni, è un odore piuttosto acre, prungente, molto difficile anche di eliminare da stoffe e da tessuti. Quindi praticamente siamo in una situazione nel quale noi dobbiamo vivere, sopportare questa cosa e nemmeno il gatto trae chissà quale vantaggio. L'intervento di sterilizzazione, che poi abbiamo detto è una castrazione specialmente per il maschio, è un intervento molto veloce, consiste sicuramente sì in una piccola anestesia generale. Oggi come oggi la quantità di anestetici presenti permette veramente di affrontare questa anestesia con una totale sicurezza. Il vostro veterinario farà eventualmente degli accertamenti che possono essere appunto tolleranze a questi anestetici, un prelevo di sangue per verificare che tutto funzioni bene, poi a quel punto in pochissimi minuti si può in qualche maniera rimuovere questi testicoli ed eventualmente affrontare voi e il vostro gatto una nuova vita. Il gatto nel momento in cui non ha più la sua sessualità, in realtà è sempre un maschio, fa sempre tutto quello che deve fare, non ha questi mesi l'anno, come diceva la signora Cettina, queste attenzioni morbose nei confronti di tutte le cose, per cui lui deve lasciare tracce odorose del suo passaggio. Quindi non lascia il messaggio sono maschio e in qualche maniera c'era quel famoso film di Alberto Sordi, no? Cerca, si compagna, emigrata a Australia. Lui in quel momento cerca, 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 ma noi sappiamo perfettamente che non troverà mai. Lui, povero tesoro, continuerà a cercare e quindi diventa veramente una storia infinita. Quindi il consiglio che noi diamo, specialmente per i possessori di maschi, dei gatti, è quello di pensare addirittura nei primissimi mesi di vita, intorno al sesto o settimo mese, appena si raggiunge la maturità sessuale, di pensare a questo intervento. Non farete assolutamente nessun danno, anzi avrete un compagno in qualche maniera di vita molto più tranquillo, molto più sereno e rilassato in un certo senso. Riaffrontiamo il discorso della sterilizzazione, volevo leggerti anche queste due lettere che si assomigliano abbastanza. Il signor Francesco, che si firma Odoacre, vive in una casa con due gattacci, uno nero e l'altro rosso, maschio e femmina, tutte e due sterilizzati. Da quando è nata sua figlia, un paio di anni fa, il maschio ha incominciato a far pipì anche lui per casa. È disperato, sempre per lo stesso problema. E la signora Giuse di Milano, anche lei ha lo stesso problema, un gatto di tre anni, molto coccolato, che fa pipì ovunque. Lei ha provato in tutti i modi, ha messo gli spray, ovviamente sta addirittura pensando di allontanarlo dal letto e quindi levare ad entrambi il piacere di dormire insieme perché ha paura che possa far pipì anche nella camera da letto. È veramente disperata. Tra l'altro lei dice che pulisce quotidianamente la lettiera e a questo punto vorrebbe anche lei un consiglio. Quindi evidentemente questi due gatti, nonostante la sterilizzazione, continuano. Può essere che il gatto del signor Francesco lo faccia come dispetto e gelosia nei confronti della nascita della bambina? Ma spesso e volentieri quando praticamente il gatto, vuoi maschio o femmina, ma a questo punto si parla di maschi, hanno queste marcature odoriose del territorio, lo fanno proprio perché è arrivato qualcosa nell'abito nel quale loro erano comunque abituati a vivere, è arrivato qualcosa, quindi un'azione di disturbo. E dopo due anni ancora non si è abituato? Ma diciamo una cosa che poi diventa quasi un'abitudine perché poi alla fine nasce magari come una necessità in quel momento e quindi come una manifestazione magari di disagio per diventare poi comunque forse quasi un'abitudine. Come abbiamo già detto ci sono dei ferormoni, sono dei ferormoni con dei diffusori ambientali e devo dire che i ringrazioni... Non sono fastidiosi per il nostro olfatto? Non ne fanno male a noi, ne fanno male ai gatti e devo dire che spesso e volentieri con questi ferormoni si riesce a ripristinare un equilibrio. Il vostro veterinario magari vi suggerirà eventualmente anche se somministrare, ci sono dei farmaci, quindi al di là delle pulizie che uno può fare, al di là di alzare la voce, al di là di applicare ecorepellenti e tutto il resto, però ci possono essere diciamo dei supporti farmacologici, quindi voi questi ferormoni o delle altre medicine che sarà poi il vostro comunque veterinario a consigliare, che possono in qualche maniera riabituare il gatto a una situazione magari di un certo genere. Noi abbiamo detto anche in maniera molto banale applicare della stagnola dove lui va a fare la pipì, questo è un rumore che lo infastidisce, emettere degli odori forti, però forse io giocherei più e farei... Ricordiamo che la canfora è un odore particolarmente sgredito ai gatti. La canfora e la naftalina sì, la odiano. Ovviamente mi raccomando la canfora che sia sotto forma di spray, non lasciate né palliente di naftalina perché potrebbero essere velenose per il gatto. Esatto, quindi io opterei più e darei molta più attenzione all'uso di questi ferormoni che devo dire danno degli ottimi risultati. Beh, ci faranno sapere i nostri telespettatori se hanno finalmente risolto il problema. Senti Giorgio, tornando alla sterilizzazione, ho una domanda da farti. Spesso capita che un gatto castrato raddoppi la sua dimensione. Come mai succede questa cosa? Purtroppo questo è vero perché in realtà castrando un gatto, quindi maschio o femmina che sia, si altera un pochettino il suo metabolismo. Quindi c'è praticamente quella che potrebbe essere un'andropausa, una menopausa, obbligata, precoce. Poi sono situazioni fisiologiche che gli animali in realtà non vivono perché sia un maschio che una femmina, ma specialmente così parla di femmine, loro hanno un loro ciclo estrale estremamente particolare e li può accompagnare quasi per tutta la vita, quindi anche gatte, non so, magari di 15 anni possono magari, se in maniera anche in maniera un po' più, diciamo, abortiva, un po' più silente, però ancora andare in calore. Quindi praticamente cosa succede? Castrando un gatto in età specialmente avanzata, naturalmente c'è quello che si chiama un rallentamento del metabolismo. Tutto questo naturalmente comporta un incremento ponderale. Questo incremento ponderale è perché è verissimo, spesso e volentieri la gente non vuole castrare gli animali perché ha questo timore, dice, perderà questa bellissima linea, sai un filino, guardi com'è bella, guardi com'è magra, eccetera. Quindi perdendo questa linea naturalmente tutto questo va a discarito poi della bellezza e della salute dell'animale naturalmente. Però quello che noi vorremmo in qualche maniera far capire è che abbiamo detto che in commercio ci sono una quantità di prodotti, diciamo sia secchi che diciamo umidi in scatola, bilanciati. I prodotti bilanciati sono quei prodotti che comunque ci permettono di far assumere al nostro animale delle quantità e qualità di alimento dove ci sia praticamente forse una fibra in quantità maggiore, dove ci siano dei carboidrati specifici, eccetera. Tutto questo farà sì che il nostro gatto sazi il suo appetito. Quindi è solo un problema di linea, dice, legato al cibo? Sì, esatto, perché chi ha delle gatte sa perfettamente che queste gatte nel momento in cui vanno in calore e la gatta è un poliestrale stagionale, quindi vuol dire che praticamente ha una stagione di calori e in questa stagione manifesta più calori in maniera ciclica, qualcuno ogni settimana, qualcuno ogni 15-20 giorni, più fortunati anche un mese. Tutto questo fa sì che il gatto, praticamente chi ha le gatte lo sa, in quei momenti abbia praticamente una totale disappetenza, quindi passano 3, 4, 5 giorni senza mangiare per poi riacquistare l'appetito nel momento in cui la gatta esce dal calore. Nel momento in cui la gatta esce dal calore riacquista l'appetito. Certo, per 5 giorni, magari una volta al mese, una volta ai 15 giorni, la gatta quasi non mangia. Questo è logico, è come per noi, l'assunzione di cibo riduce automaticamente anche l'incremento ponderale. Rimuovendo le gonadi si rimuove praticamente questo inconveniente, quindi l'appetito è costante, anzi diciamo in un certo senso aumenta. A questo punto sta a noi, che siamo in qualche maniera artefici nel bene o nel male della loro salute, quindi a quel punto è importantissimo, vuoi che sia alimento fresco, vuoi che sia alimento del commercio, dare comunque una tanta e tale qualità che faccia sì che il nostro gatto rimanga in linea. Quindi è un po' un errore affettuoso che viene fatto nei confronti dei nostri amici nel momento in cui sono stati castrati, ma noi comunque possiamo dire a voce alta che comunque ci sono tantissimi gatti, sia maschi che femmine, operati, quindi castrati, che poi vivono in casa, che comunque hanno mantenuto negli anni una linea perfetta. Forse qualche etto l'hanno messo, ma mai di più. Perfetto Giorgio, oggi i nostri gatti sono stati buonissimi, tranquilli, si vede che hanno mangiato e stanno bene, super coccolati. Allora voglio ricordare ai nostri spettatori il nostro sito www.alice.tv, cliccate ovviamente sul nostro programma Cani, Gatti e Co e Giorgio vi risponderà direttamente per mail o altrimenti qui in trasmissione insieme. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.